Ben 12.000 servizi nell'arco di un anno e oltre 90.000 ore di assistenza. Sono i numeri davvero consistenti, snocciolati dal Presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa nel corso della festa dei volontari lodigiani. Nel Parco Comunale dell'Isola Carolina sono state allestite per due giorni le tende sotto le quali hanno trovato posto i vari gruppi specializzati della Croce Rossa, dai volontari che si occupano del pronto soccorso a quelli che operano per la prevenzione degli incidenti e del consumo di droga, dalle unità cinofile per il soccorso agli esperti di trucco necessari per le esercitazioni periodiche. Sotto una tenda è stata ricostruita anche la scena di una crimine purtroppo abituale nei conflitti bellici, l'uccisione dei volontari del soccorso. Per i lodigiani è stata l'occasione per prendere visione da vicino degli strumenti e delle apparecchiature in dotazione alla Croce Rossa lodigiana, spesso impegnate in interventi anche al di fuori dei confini provinciali. L'ha ricordato anche l'assessore provinciale alla protezione civile, ringraziando i volontari dello straordinario e qualificato servizio assicurato alla comunità locale. Il volontariato in effetti costituisce una grande risorsa non solo nell'odigiano ma in tutta la Lombardia e queste donne e uomini con la Croce Rossa sul petto lo stanno a dimostrare.